Sono abbastanza contento in questi tempi perché ho per interlocutori delle persone che, consapevoli della fisica e delle sue problematiche, intervengono con competenza e a proposito dei temi che io apro e discuto. Uno di questi è l'intervento che vorrei commentare oggi, fatto da Edoardo Bianchi con delle precisazioni sulla misura delle grandezze fisiche. È un intervento molto chiaro, preciso, definito ed esatto su cui io voglio discutere. Lo vedete qui in tutta la sua interezza ma lo osserveremo meglio parte per parte. Vediamo la prima parte della domanda. Che cos'è la massa di un corpo? Potrà sembrare strano ma la definizione di questo concetto, che semplicemente siamo soliti associare alla quantità di materia del corpo, ha impegnato scienziati del calibro di Newton e Einstein. Fortunatamente, ai fini dell'indagine scientifica dei fenomeni naturali, non serve tanto definire l'essenza delle grandezze, cosa tutt'altro che facile, quanto indicarne il metodo di misura. È sufficiente, cioè, dare della grandezza una definizione operativa. La definizione operativa di una grandezza fisica consiste nella descrizione degli strumenti da usare e dei procedimenti da seguire per la sua misura. Operativamente, la massa di un corpo è definita come quella proprietà del corpo che si misura con una bilancia a bracci uguali. Poggiato il corpo su uno dei piattelli della bilancia, la sua massa è uguale a tante unità quante sono quelle che è necessario porre sull'altro piattello perché la bilancia sia in equilibrio. Il problema della misura della massa è così risolto una volta scelto un corpo campione, la cui massa sia assunta come unitaria. Ecco, è espresso con estrema chiarezza il problema della massa. Che cosa possiamo dire in relazione a questa domanda, proprio per approfondirla? Intanto che quella questione di che cosa sia la massa e che, come è giustamente detto da Edoardo Bianchi, è un problema che ha impegnato scienziati del calibro di Newton e Einstein, rivela per la fisica amodea La massa è una spiegazione precisa. La massa è una porzione unitaria di spazio che, allorché, allorché è costretta, uniformata a un modello esattamente cubico, a spostarsi in modo che se il cubo trasli e occupi il cubo accostato a quello, ecco, la forza per ottenere questo spostamento di questo cubo della presenza, ossia di tutto ciò che vi è di presente, costituisce la massa unitaria. è quella contenuta in un cubo che, impostato su tre lati, si muove secondo un lato, uno qualunque dei tre, in modo che, nel movimento che si attua in quel lato, il cubo occupi il cubo immediatamente accostato a quello. Allora, secondo la fisica amodea, la massa è una forza di spostamento unitario del volume di tutto ciò che è presente, il quale volume può essere configurato come il contenitore spaziale di tutto ciò che è presente, un contenitore proprio misurato nel modo ideale cubico che noi usiamo per misurare il volume. Quando noi abbiamo da misurare qualsiasi volume, qualunque forma esso abbia, noi usiamo un modello spaziale cubico e misuriamo in metri cubi. Se il soggetto ha una forma diversa non importa, quella forma diversa è equiparata al volume del modello cubico e la misurazione è fatta attraverso questo modello ideale. Ecco, quando questo modello ideale trasla in un suo lato in modo che il cubo diventi quello immediatamente accostato, abbiamo la massa che ha spostato la sua presenza da un cubo a quello immediatamente vicino e a questo punto siamo in grado a identificare questo contenuto attraverso i parametri che definiscono questo cubo che se ha il lato 10 e dunque vale 10 al cubo si deve spostare interamente di un altro 10 e la presenza 10 al cubo interagendo con lo spostamento 10 diventa 10 al cubo per 10 uguale 10 elevato a 4. Ebbene, questo secondo la fisica modea è il contenuto di massa, l'intera massa della presenza contenente tutto, spazio, tempo, energia, ogni possibile dimensione tutte quante presenti in quello spazio definito traslano da un cubo a quello limitrofo il che impegna quattro dimensioni facendo presente che la dimensione quando noi usiamo un ciclo di misurazione decimale è l'indice assunto da una potenza che rivela la sua totale quantità in 10 elevato a 4 uguale 10.000. In tal modo tutta la massa è in unità la quantità di 10.000 unità e sono le mille che riguardano un cubo che ha il lato 10 che traslando per 10 e molendo moltiplicandosi per 10 passa dal valore di 10 volte 1000 al valore di 10.000. Che cos'è dunque la massa? È l'intera presenza che trasla esattamente interamente nel suo volume ideale di riferimento. Ora, quando noi, per come ha descritto Edoardo Bianchi, riduciamo la massa a una misurazione ottenuta attraverso una bilancia, la bilancia che è stata messa in atto per unificare la massa, ha scelto come sostanza una molecola di acqua e come dimensione di questa molecola di acqua un decimetro cubo di acqua ai 4 gradi centigradi in cui l'acqua ha la massima densità. Ora, se noi pesassimo direttamente ogni volta un chilo in questo modo saremmo nei pasticci perché dovremmo mettere sempre sul piatto della bilancia un decimetro un decimetro cubo di acqua a 4 gradi centigradi, il che è difficilissimo. Allora, si è usato controbilanciare questo peso con tanta quantità di una sostanza che è costante nel suo peso e non dipenda dalla temperatura e dunque su un piatto della bilancia è stato posto il decimetro cubo di acqua a 4 gradi centigradi e sull'altro è stato posto tanto platino iridio da configurare una barretta che poi è campione del peso. Ma quando noi usiamo il campione del peso ottenuto in questo modo qui è sempre un decimetro cubo di acqua in tal modo noi abbiamo sempre la presenza cubica ideale del volume nel modo con il quale questo volume trasli secondo una linea pari al lato di un lato esatto tanto che prima la presenza era relativa a un lato nell'istante immediatamente successivo il lato è il lato successivo e il cubo appartiene al momento successivo. Ora, quando noi immaginiamo di avere una sezione trasversale che sia totale, come la presenza totale che impegni 10 nella linea del flusso quando noi abbiamo lo spostamento 10 di tutta questa infinita sezione noi passiamo da una generale datazione della presenza alla datazione immediatamente successiva della presenza di tutto quanto il nostro sistema di riferimento considerato presente. In questo modo, se noi avessimo uno spostamento più grande, per esempio un cubo che invece di occupare nel tempo immediatamente successivo il cubo di fianco salta al terzo cubo di fianco noi abbiamo un primo movimento in cui la traslazione è esclusivamente nel tempo e quindi noi nel piano non la vediamo nell'attimo successivo noi vedremo quella massa che non può uscire dalla nostra presenza ma che si muove per un valore in più spostarsi lateralmente lungo il piano della presenza quindi ogni spostamento della massa ha sempre un valore unitario che trasla esclusivamente nel tempo e tutto il valore in più posseduto dalla velocità in più della massa che anziché essere una velocità 1 su 1 o se volete 10 su 10 diventa per esempio 2 su 1 o se volete 20 su 10 o 30 su 10 mostra come movimento nel piano tutto quanto vada oltre lo spostamento unitario fatto esclusivamente nel tempo allora ogni massa ha una componente unitaria che riguarda solo lo spostamento nel tempo e solo dopo si aggiunge uno spostamento in più che è visto nello spazio della presenza ossia nel piano in cui noi abbiamo collocato tutta la presenza e che è il piano perpendicolare al lato del cubo nel senso del suo flusso ora quando noi usiamo per ottenere e misurare la massa il sistema del peso noi stiamo sottoponendo ogni corpo presente nel nostro spazio a una possibile accelerazione per caduta gravitazionale una bilancia misura esattamente la forza di questa caduta e equiparandola a un'altra la misura con esattezza perché lo spostamento nello spazio coincide con lo spostamento nel tempo solo che nel nostro sistema di riferimento lo spostamento del tempo avviene per tutti noi dalla profondità del tempo e quindi se ci fosse solo quello spostamento che c'è e riguarda ogni cosa noi non vediamo accadere nessuno spostamento del nostro decimetro cubo perché il suo spostamento è solo in quel senso della profondità che noi non distinguiamo è solo per una velocità superiore a questa che noi cominciamo a vedere che tutti gli spostamenti in più avvengono nel piano trasversale ecco però essendo identici gli spostamenti perché sono riferiti tutti quanti a un modello spaziale di riferimento il movimento spaziale del cubo nello spazio successivo è anche il movimento della presenza nella presenza immediatamente successiva e questa presenza non è l'attimo fuggente è proprio una quantità unitaria posta con una certa dimensione 10 che è stata proprio quella che è stata concepita come la presenza totale quando noi abbiamo un evento che accade in un'unica direzione che contiene due versi e vi sono due osservatori a osservare uno da una parte e l'altro dalla parte opposta della stessa direzione osservandola in due versi contrapposti allora a quel punto ognuno dei due osservatori dato il sistema tridimensionale allo spazio e con riferimento ai versi date sei progressioni da un centro o centrifughe sei versi componenti o sei centripeti che vanno verso il centro dato sempre questo sistema a sei versi componenti o di ammassamento o di generale espansione noi si abbia sempre che ogni osservatore pone uno di quei sei versi come il denominatore tempo degli altri cinque spaziali e ciascuno dei due percepisce le quattro componenti del piano trasversale e in più la componente perpendicolare a quel piano che porta a lui solo dei due quei dati dunque cinque componenti sono quelle che scompongono il piano e il volume secondo un osservatore l'altro percepisce il tutto attraverso altri cinque valori componenti tanto che nella duplicità dell'osservazione secondo i due versi noi si abbia esattamente dieci componenti che in sei sono i versi dello spazio e negli quattro sono i quattro tempi dell'osservazione soggettiva tempi che hanno proprio per potersi muovere ciascuno due versi tanto che sono due per muovere nel verso che porta i dati a un osservatore e sono due per muovere i dati nel senso opposto che li porti all'altro osservatore in tal modo noi abbiamo che l'insieme di dieci componenti è fatta di sei versi spaziali e quattro tempi di osservazione uguale e distinta quindi vedete che come ha giustamente riferito Edoardo Bianchi noi quando andiamo a misurare nel modo che sfrutta la forza di gravità per misurare la massa poiché tutto ciò che è attratto in modo che la massa si sposti è bilanciata perfettamente ecco che noi abbiamo un contenuto di massa misurato esattamente quando noi andiamo a mettere su un piatto della bilancia qualcosa che sia messo in esatta relazione al ciclo dieci della presenza perché quando noi vediamo che ogni soggetto all'interno di quel sistema ha dieci componenti ne riceve realmente solo una che è quella del vettore che punta direttamente a lui nel verso del tempo della profondità della percezione noi abbiamo che l'insieme che è dato da dieci componenti si colloca come nove componenti a numeratore e una componente a denominatore che è il verso del tempo un verso unitario che porta a ciascun osservatore che sia collocato in un punto qualunque del sistema a tre componenti cartesiane sempre nove dati oggettivi di movimento contro uno di presenza nel tempo della percezione poiché l'acqua equipara nella sua molecola esattamente le cose in modo che il peso atomico della massa è fatto attraverso l'atomo di idrogeno che pesa esattamente uno e ce ne sono due che orbitano intorno alla centralità di un solo atomo di ossigeno che pesa 16 allora il contenuto in peso pari alla massa è dato da 2 più 16 il contenuto della molecola di acqua in peso atomico è 18 ma se andiamo a considerare la quantità totale della massa e la mettiamo in relazione ai due atomi che si muovono che sono i due atomi di idrogeno ciascuno dei quali pesa esattamente uno abbiamo che tutta la massa 18 suddivisa per i due atomi di idrogeno ha esattamente un contenuto di nove quantità per ciascuno dei due avendo lo stesso rapporto 9 a 1 che esiste nel sistema spaziale in cui è lo stesso rapporto tra tutto il 9 e l'unità del solo vettore che avanza nel tempo verso l'osservatore è giusto usare la molecola di acqua che ha lo stesso contenuto tra la quantità di massa messa in relazione a ognuno dei pesi atomici in movimento quindi usare un decimetro cubo di acqua consente di affidare solo al ritmo 9 a 1 quello di una esatta presenza che abbia la presenza 1 e 9 entità come una unica entità dinamica che sia quel 9 che nel sistema decimale è il numero invariante che è usato per calcolare attraverso il nonio che è usato attraverso il regolo calcolatore e che verifica la bontà dei calcoli con la famosa regola del 9 prova del 9 ecco il 9 a 1 che è interno al 10 e che estrapola il tempo di quell'unico vettore che punta contro l'osservatore e che trasla gli altri 9 è simile proprio a un treno che sia il treno del tempo e che sia unitario e che trasla al di sopra di esso 9 altri vettori che sono solo quelli che arrivano grazie al tempo 1 collocato a denominatore ma l'insieme è sempre 10 nella presenza allo stesso modo l'insieme nella molecola di acqua è sempre 10 per ciascuno essendo per ciascuno dei due atomi di idrogeno che valgono ciascuno un peso atomico esatto abbiamo il rapporto 9 a 1 tra la dinamica eguagliata alla massa al peso e il valore 1 della presenza quindi attraverso la commisurazione e il riferimento proprio a un decimetro cubo di acqua noi abbiamo la perfetta adesione al sistema di riferimento per la grandezza fisica come è stata descritta esattamente da Edoardo Bianchi vediamo ora il secondo periodo che io ho evidenziato è scritto che la misura di una grandezza fisica consiste nell'associare alla grandezza un numero che esprima il suo rapporto con un'altra grandezza omogenea cioè una grandezza dello stesso tipo usata come unità di misura pertanto una massa una lunghezza un volume eccetera si misurano rispettivamente mediante il confronto con una massa unitaria una lunghezza unitaria un volume unitario eccetera questo argomento è importantissimo perché evidenzia come il calcolo e la misurazione ricorre sempre a un modello perfetto di riferimento la massa è sempre riferita a un modello cubico che quando è il cubo di un decimetro cubo contenente l'acqua mentre questo decimetro esiste esattamente nel rapporto uno di presenza e nove di movimento all'interno all'interno del ciclo dieci di dieci decimetri uguali all'unità dello spazio evidenzia la presenza della massa nel decimo dello spazio e a livello cubico la presenza della massa è un millesimo del metro cubo a questo punto noi per usare la massa visto che è una massa che riguarda lo spostamento intero della presenza e questo spostamento è riferito al volume noi dobbiamo riferirla sempre a un metro cubo che è il valore unitario della presenza essendo un metro il valore che è stato posto unitario come lunghezza e poiché la massa nella sua presenza unitaria è stata definita nel decimetro cubo ecco che la massa unitaria è mille ossia dieci al cubo solo perché il suo riferimento unitario il decimetro cubo è il valore uguale contrario è un millesimo di quel mille e quando noi diciamo che abbiamo mille chili in sostanza noi abbiamo uno perché mille sono dieci al cubo decimetri cubi e un chilo è un decimetro cubo interno al metro cubo e nella quantità di un millesimo quindi un metro cubo è dato da mille millesimi e mille millesimi sono uguali a uno ecco questo sistema di riferimento della massa va riferito a tutto il valore della presenza valore che è collocato dentro un cubo e quando noi diamo a questo cubo il lato dieci che è considerata presenza di ogni cosa ecco che noi usciamo dal relativo a che cosa perché posto dieci il lato del cubo è la presenza unitaria di ogni possibile forma che sia presente e dunque sia che sia massa sia che sia tempo o spazio o energia o ogni altro valore unitario questa presenza è sempre dieci per tutte e noi abbiamo in questo modo la vera unificazione della fisica che va a abbracciare e unificare tutte quante le unità di misura quindi il riferimento alla massa è il riferimento più generale che vi sia perché generalizza la totalità della presenza di ogni possibile cosa e quando noi abbiamo mille unità millesime noi abbiamo il valore unitario perché mille millesimi uguale 1 noi per misurare una cosa usiamo il valore esattamente contrapposto e in tal modo non ci discostiamo minimamente dal valore unitario perché 10 decimi è 1 100 centesimi è 1 mille millesimi è 1 10.000 decimillesimi è 1 insomma n diviso n uguale 1 e questo è il sistema unitario di riferimento quando noi poi vogliamo entrare nel dettaglio delle singole cose per misurare ogni fenomeno dobbiamo ricorrere all'unità ideale di quel fenomeno e definirlo nella lunghezza nel tempo in modo tale che la sua presenza sia ricondotta alla generale presenza di ogni possibile cosa e in questo modo ogni elemento è sempre riferito a tutti gli altri quando la presenza è ricondotta sempre a quei dieci decimi della presenza generale posta 1 perché dieci decimi sono 1 e andiamo avanti con lo scritto di Edoardo Bianchi perché è perfetto nella sua stesura una unità di misura deve essere scelta in modo che siano soddisfatti i due requisiti deve restare costante nel tempo in modo che ogni misura sia confrontabile con le altre e dia lo stesso risultato se ripetuta deve essere facilmente riproducibile in modo da poter essere utilizzata ovunque si renda necessario il suo uso per ogni grandezza fisica deve essere fissata una appropriata unità di misura altrimenti il valore di quella grandezza non sarebbe misurabile ecco qui è ripetuto proprio un concetto importantissimo è lo stesso concetto che ha trasformato l'unità di misura della massa data da un decimetro cubo di acqua a 4 gradi centigradi alla equivalente massa data dal campione fisico in platino iridio che è stato configurato come il campione del peso dunque questo campione è sempre quello ed è sempre usabile con facilità cosa che non sarebbe possibile così facile se noi dovessimo misurare sempre ogni cosa avendo la massa di un decimetro cubo di acqua a 4 gradi centigradi ma è assodato che quando noi in sostanza usiamo la massa del nostro campione che abbiamo configurato nel chilo stiamo usando sempre la massa di un decimetro cubo di acqua a 4 gradi centigradi anche se la forma a cui è stata riferita è stata diversa su questa condizione poi di facilità di misura sarà riproposto anche il controllo di due altri elementi che noi andremo a configurare come unità di misura sia quella del metro sia quella del secondo perché mentre il metro nella sua reale lunghezza è stato riferito come il quarto del meridiano terrestre nella sua quantità 30 milionesima dato che quel tratto di lunghezza è stato posto uguale a 30 milioni di 30 milionesimi ecco che il metro è unitario perché è un 30 milionesimo di 30 milioni questa è la ragione che lo rende unitario nella sua lunghezza quando poi questa lunghezza difficilmente misurabile con un quarto di meridiano terrestre è riferita a qualcosa di costante come la luce che avanza sempre con un certo numero di metri al secondo cambia soltanto il riferimento perché la lunghezza data da un quarto di meridiano terrestre è stata ricollocata come una certa quantità di presenza legata alla quantità presente nella velocità della luce ma non è che il metro sia cambiato come per l'acqua è semplicemente cambiato il sistema del riferimento per questa misura ma non certo la sua misura allo stesso modo quando il minuto secondo sarà posto come un 86 mila e quattrocentesimo di un giorno è una quantità che riferita al giorno è sempre difficile da calcolare invece se questa durata è configurata e misurata con un fenomeno costante ecco che allora la lunghezza del tempo è fissata con certezza mentre invece non lo sarebbe nei confronti di un meridiano terrestre che sembra che sia diverso nel tempo e di conseguenza non è così costante allo stesso modo di come non è costante l'acqua quando muta la sua temperatura ecco ma quello che mi preme di far vedere è che quando noi andiamo a misurare e a commisurare a identificare le grandezze fisiche con unità di misura queste unità di misura anche se definite oggi in un modo preciso attraverso un sistema costante restano sempre quelle dimensioni che si rifanno come tempo all'intero movimento di tutto il nostro mondo terrestre e come spazio alla lunghezza del suo quarto di meridiano di conseguenza conservano sempre come elemento unitario di riferimento la configurazione spaziale di una massa che nella terra ha assunto la forma pressoché esatta di una sfera anche se essa poi è spanciata la lunghezza del meridiano resta pressoché costante perché lo spanciamento è riferito sempre ai quattro quarti di conseguenza abbiamo sempre un'intera circonferenza che in un quarto presenta sempre degli elementi costanti riferiti a tutto quanto il loro intorno si potrebbe quindi pensare di scegliere arbitrariamente tante unità di misura indipendenti l'una dall'altra quante sono le grandezze fisiche ma si verrebbe così a creare una moltitudine di unità non collegate tra loro conviene fissare le unità di misura solo per un certo numero di grandezze che prendono il nome di grandezze fondamentali la scelta delle grandezze fondamentali deve essere fatta in modo che una volta stabilite le loro unità di misura in funzione di queste si possano determinare mediante relazioni matematiche le unità di tutte le altre grandezze chiamate grandezze derivate è espresso con grande sapienza infatti tutto ciò non è stato trascurato dall'accademia francese che volle che tutte quante le presenze di ogni forma tutte avanzanti come vettori di velocità uno a uno nel tempo secondo linee avessero il riferimento a quella presenza dieci in cui i tempi fossero quattro e i versi percorribili nel tempo fossero i sei complementari ai quattro tempi nello spazio tempo posto con dieci unità ecco tutto quando è riferito a questo modello che ha dieci unità nella presenza ecco che sono quelle fondamentali ricondotte a questo sistema volontariamente o involontariamente che sia sono inevitabilmente ricondotte perché la presenza nel nostro sistema che ha la tridimensionalità dello spazio a cui tutto è ricondotto nello spazio della presenza occupa tre valori lineari simultaneamente nella presenza di un cubo poiché queste tre linee sono parte delle dieci che sono la presenza è chiaro che lo spostamento di un tre di presenza in un dieci riguardi solo ciò che sia complementare al tre nel dieci e diventano allora sette dimensioni e queste sette dimensioni saranno volontariamente o no le sette dimensioni unitarie che saranno individuate nel sistema internazionale dei pesi e delle misure perché sono quelle fondamentali la fisica modea arriva a distinguerle l'una dalle altre proprio distinguendo tutti i possibili rapporti che siano ottenuti attraverso un numeratore e un denominatore i cui valori sommari numeratore più denominatore portino sempre a un dieci di presenza allora in questo dieci di presenza noi possiamo avere il porsi uno a nove e questo è il porsi della massa tempo ossia di quel vettore unico che porta i dati verso l'osservatore portando la massa nove di tutte le altre nove dieci componenti e dunque un nono è l'algoritmo che ci consente di dare qualità di massa alla massa quando noi in questo valore totale che è la relazione uno su nove togliamo di mezzo tutti i cinque dati che viaggiano nel senso inverso all'osservatore e li sottraiamo ai nove nove meno cinque uguale quattro ci determina a questo punto che la presenza tempo della massa è un quarto ed è la presenza massa perché quando il tempo è uno e lo spazio ha tre altri parametri tanto che lo spazio tempo è una unità formata da quattro parametri in cui il tempo è uno solo e sono tutti uguali tra di loro come vettori unitari ecco che il tempo di presenza è un quarto ma riguarda come tempo di presenza quello che arriva a un unico osservatore avendo escluso tutti gli altri cinque valori che vanno nel verso opposto che sarebbero visti da quell'osservatore collocato nel verso opposto della direzione secondo cui noi osserviamo in profondità ecco allora che abbiamo che mentre la presenza generale è un quarto il valore totale della massa è un nono quando noi abbiamo anziché un quarto due ottavi la cui somma è dieci ecco che con due ottavi noi abbiamo il tempo proprio perché presenta nel rapporto due a otto il rapporto tempo che avevamo visto come uno su quattro il rapporto tre su sette evidenzia lo spazio tre sulla base del movimento sette unitario nella sua totalità di movimento noi lo vediamo tre a uno nella realtà quattro ma quell'uno collocato sotto in realtà è un sette è tutto quello che manca al tre perché l'unità di presenza è sempre dieci grazie a una relazione tre su sette di una presenza riferita all'unità del suo movimento sette noi abbiamo la configurazione di ciò che poi percepiamo realmente nella forma dello spazio che attribuiamo con la nostra intelligenza dando qualità di spazio al puro rapporto tre a uno il rapporto tre a uno è la velocità assoluta che porta i dati a ogni linea perché quando ogni linea è interna a un sistema a tre linee ogni linea in valore assoluto ossia riferito alla sua totalità che è data da tre linee ogni linea è un terzo di tre essendo una quindi ogni linea nel valore suo riferito al suo sistema totale è un terzo e per essere unificata in tutto lo spazio deve moltiplicarsi proprio alla velocità uguale contraria data da tre a uno tanto che un terzo diventi tre terzi e dunque una linea quindi la velocità assoluta è la velocità tre a uno e la presenza unitaria in una linea è sempre uno su tre quando noi abbiamo un altro algoritmo che mette quattro dimensioni a numeratore e sei dimensioni a denominatore ecco che stiamo commisurando la quantità di presenza a tempo nelle quattro dimensioni messe in relazione a tutti quanti i sei versi che esistono e di conseguenza questo sistema ci mostra la nostra realtà quadridimensionale che è percepita in velocità tre a uno la quale diventa proprio quella dimensione quattro appartenente a dieci al cubo moltiplicato per dieci che diventa dieci elevato a quattro e quindi quando noi percepiamo quattro a sei stiamo qualificando dei numeri attribuendogli qualità di flusso nel tempo flusso unitario dieci di dieci al cubo quando noi valutiamo cinque a cinque il porsi ossia in un modo paritetico noi abbiamo la percezione unitaria elettromagnetica e essa ci porta con questa unità sostanzialmente la qualità termica quando noi abbiamo il rapporto sei a quattro e misuriamo i sei versi sulla base della realtà a quattro tempi unitari noi stiamo dando valutazione unitaria alla molecola e quando infine valutiamo il valore sette a tre ecco che con la dimensione sette che riguarda tutta la dinamica che esiste al sistema cubico questa dinamica è proprio unitaria nella intensità unitaria della luce ed ecco che in questo modo noi attraverso la relazione un nono otteniamo l'unità della massa due ottavi l'unità del tempo tre settimi l'unità dello spazio quattro sesti l'unità del flusso elettrico la cui unità poi sarà l'ampere cinque a cinque quell'unità che sarà ricondotta al grado kelvin sei a quattro l'unità che sarà ricondotta alla mole infine sette a tre quella unità che sarà ricondotta alla candela e tutte le altre unità come è stato detto esattamente qui saranno derivate da queste sette unità fondamentali che non possono essere più di sette perché per poter essere otto noi dovremmo poter vedere simultaneamente non solo le quattro componenti del piano appartenente alla faccia davanti ma anche le quattro del piano di dietro sono piani posti in antagonismo e non possiamo vederli tutti e due ecco perché noi avremo la totalità di certi fenomeni sempre ricondotti a sette dimensioni le sette dimensioni sono il vincolo della sfera il quale vincolo mentre vincola a sei dimensioni lo spazio quando si aggiunge una dimensione in più in cui ogni verso è costretto ad essere la lunghezza anche del verso obliquo chiamato raggio costante e dunque abbiamo sette definizioni noi abbiamo il vincolo sferico ecco che le sette dimensioni di una diffusione sferica sono quelle che appartengono all'intensità unitaria della luce chiamata candela e quando la candela avrà nove versi compiuti dall'unità nel ciclo dieci e avrà sei versi in cui tutto questo è attuato ecco che sei per nove fa cinquantaquattro il che riferito al ciclo dieci forma ma proprio il 540 della candela e vedete come tutto è riferito a un perfetto sistema di riferimento ideale nello spazio cartesiano che è caratterizzato dalla perpendicolarità tra i tre lati di un cubo che consente di moltiplicarli ossia combinarli esattamente l'uno all'altro e all'altro per ottenere la precisione estrema di un volume di riferimento ideale fissare le grandezze fondamentali e le loro unità vuol dire fissare un sistema di misura dopo la ventunesima conferenza di pesi e misure svoltasi a Parigi nel 1960 è stato introdotto un sistema oggi adottato quasi universalmente chiamato sistema internazionale di unità più semplicemente indicato con la sigla SI ebbene cosa c'è di valido in questo sistema rientra interamente nel sistema metrico decimale ossia ogni unità di misura nonostante la differenza tra l'una e l'altra differenza formale è posta sempre come la presenza decima di un ciclo che è dieci di presenza per tutte quante in questo modo quando ogni unità di misura è sempre un decimo del suo ciclo e la presenza di ogni forma è sempre dieci qualunque sia la sua forma ecco che il sistema di misura decimale che noi abbiamo in atto vale con tutte le regole con cui esso vale perché a questo punto tutte le relazioni tra ogni unità e suo ciclo intero di presenza conforma esattamente nei numeri il modello astratto del riferimento cui per astrazione ideale sono riferite tutte quante e questa è la vera unificazione della fisica che fu fatta quando si volle che fossero calcolate unità nuove che fossero rispettose dello stesso sistema decimale con il quale noi facciamo i calcoli perché se definiamo un sistema unitario di misura che rispettano gli stessi valori che noi usiamo nel calcolo il valore che risulta è lo stesso valore che dà immediatamente il calcolo senza bisogno di nessuna altra perequazione perché se per esempio stiamo usando i metri e abbiamo la presenza di 5 metri come valore dinamico abbiamo che nello stesso momento sono 5 anche tutte le altre unità perché sono tutti i valori estremi collocati sempre nella stessa relazione tra la quantità unitaria che è un decimo per ciascuna e la quantità generale della presenza che è 10 per ciascuna durante lo studio della meccanica che riguarda il moto e l'equilibrio dei corpi si incontrano solo grandezze fisiche che possono essere espresse in funzione del tempo della lunghezza e della massa misurare l'intervallo di tempo confreso tra due istanti significa confrontarlo con un altro intervallo assunto come unità di misura per la scelta di tale unità conviene fare riferimento a fenomeni periodici cioè fenomeni che si ripetono sempre con la stessa durata un fenomeno periodico è per esempio l'alternarsi del giorno e della notte da esso dipende una definizione dell'unità di tempo il secondo in uso fino al 1960 il secondo era ritenuto uguale a una parte su 86.400 quantità del giorno solare medio inteso come l'intervallo di tempo mediato sull'arco di un anno che intercorre tra due successivi passaggi dello stesso meridiano terrestre davanti al sole oggi è noto che la rotazione della terra non è così regolare come si pensava e quindi non è adatta a definire una unità di misura misure di tempo molto più precise possono essere effettuate adoperando orologi atomici al cesio dispositivi che registrano il numero di oscillazioni compiute dalle onde elettromagnetiche emesse in particolari condizioni di eccitazione dagli atomi dell'isotopo 133 del cesio questo tipo di orologi che possono ritardare o anticipare al massimo di un secondo ogni 30.000 anni è attualmente utilizzato per definire il secondo il secondo simbolo s è dunque l'intervallo di tempo durante il quale avvengono questo numero qui di oscillazioni di un orologio al cesio vogliamo vedere un po' cosa sono qui sono 91 miliardi 926 milioni no 9 9 triliardi 192 miliardi 300 insomma leggetelo voi è un numero che vedete è un numero che non non ha una forma unitaria e perché non ha questa forma unitaria è perché questo sistema è simile alla massa di un chilo che non è un decimetro cubo di acqua ma che riporta quella quantità in un modo preciso che non altera vedete la quantità di questo numero qui praticamente fissa quello che è il secondo che era calcolato all'inizio ossia all'inizio c'è un certo periodo di tempo come un 86 mila e quattrocentesimo del giorno che è la lunghezza di un secondo ma questa lunghezza questa lunghezza non è esattamente costante mentre invece se la riferiamo a quest'altra essa è fissata in un modo che non oscilla più insomma è la stessa cosa che è stata fatta con l'acqua se noi misurassimo un chilo con un decimetro cubo di acqua saremmo condizionati al fatto che a mano a mano che cambia la sua temperatura si modifica anche la quantità di massa presente in un decimetro cubo e quindi varia anche il peso allo stesso modo le oscillazioni della terra che sono state viste variano questo secondo e allora si è preso un valore del secondo e quel valore lì sempre quel valore lì che abbia un giorno che mettendoli insieme sempre 86.400 sia un giorno fissato in modo che non dipenda più in sostanza dal giorno ma sia la stessa cosa per questo questo numero è un numero così che non ha alcuna pienezza perché la durata di un secondo come 86.400 parte del giorno è riferita semplicemente riferita al cesio e a questi numeri di oscillazioni ma il valore di un secondo è sempre quello che corrisponde a un 86.400 del giorno come il chilo è sempre un decimetro cubo di acqua a 4 gradi centigradi anche se lo definiamo attraverso il campione fissato lì come il campione del chilo che è quello lì anche qui le oscillazioni sono queste ma esse misurano un 86.400 della terra perché se così non fosse noi non riferiremmo a un unico soggetto che è la massa terrestre per come esiste nella sua massa in rotazione e alla sua lunghezza del meridiano non riferiremmo tra di loro la massa alla lunghezza e alla durata solo se noi riferiamo sempre tutti i fenomeni a questa unitilità della dinamica del corpo libero del volume terrestre solo allora noi abbiamo che le varie unità sono equiparate tra di loro se noi ci dimentichiamo di questo e ci chiediamo che relazione ci sia tra questo numero di oscillazioni di un orologio accesio e a quanto è un chilo abbiamo perso ogni riferimento se invece ci ricordiamo che questi numeri sono soltanto la precisione fissata in un valore che altrimenti sarebbe difficilmente usabile solo allora ci rendiamo conto che esiste tra metro chilo e secondo proprio la stessa relazione che esista tra la massa terrestre la lunghezza che la cinge e il tempo dell'intera durata che la fa ruotare di 360 gradi infine Edoardo Bianchi precisa l'unità di misura della lunghezza è il metro di cui nel corso degli anni sono state date diverse definizioni il metro fu introdotto in Francia alla fine del settecento come la decimilionesima parte della distanza tra il polo nord e l'equatore lungo il meridiano passante per Parigi praticamente un quarto del meridiano terrestre successivamente per la necessità di fare riferimento a un campione concreto come metro si prese la distanza tra due tacche incise su una barra di platino iridio conservata in condizioni ambientali controllate presso il bureau internazionale dei poire misure di Sevres vicino Parigi scusate la pronuncia io non leggo francese anche questo campione come tutti i precedenti è stato poi abbandonato a causa della limitata accuratezza con la quale poteva essere determinata la separazione tra le tacche sulla sbarra oggi per definire il metro si fa riferimento a una grandezza che è ritenuta rigorosamente costante la velocità con cui un lampo di luce si propaga nello spazio vuoto il valore di questa grandezza misurato con metodi molto accurati in termini della precedente definizione di metro e della definizione di secondo è c uguale 299 792 458 metri al secondo con un'incertezza di un solo metro al secondo in più o in meno si è dunque scelto dal 21 ottobre 1983 di considerare il valore come esatto ovvero senza errori e a partire da esso con l'unità di tempo si definisce la lunghezza del metro nel sistema internazionale e anche qui io desidero fare osservare che mutare la definizione non significa mutare la quantità che è definita ma mutare soltanto il modo usato per descrivere questa lunghezza di un metro che resta sempre un quarto del meridiano terrestre quella lunghezza è stata poi calcolata riferendola a un campione fisico tanto che la barra da parte sua calcolata nel massimo della precisione fosse la decimilionesima parte di un quarto di meridiano terrestre o se volete la 40 milionesima parte del meridiano terrestre quella barra aveva quella lunghezza segnata su quella barra ma come espresso molto bene le tacche su quella barra non davano modo di avere una grande precisione allora quella lunghezza è stata riferita attraverso il mutamento del sistema di riferimento ma la quantità è restata sempre quella di conseguenza il numero che oggi presenta come metri la luce che sono 299 792 458 metri sono quelli perché il metro che è stato usato è proprio il valore che è stato fissato all'inizio e visto che in un secondo di quei metri lì ne passano 299 milioni ecco che è chiaro che uno solo è dato dal valore inverso a quello che è visto passare grazie alla velocità della luce che è costante ma quando noi andiamo a definire il metro con tanta esattezza avete visto che l'errore praticamente è solo un metro in più o in meno su 300 milioni quindi è praticamente irrisorio questo numero di metri ha quel numero lì perché il metro che corrisponde alla 40 milionesima parte del meridiano terrestre ha quella misura lì se quel metro che noi avessimo ottenuto avesse avuto una lunghezza doppia noi avremmo calcolato che in un secondo non passa quel numero lì ma un numero pari alla metà perché avremmo definito in un metro la lunghezza doppia rispetto a quella di adesso vedete che il numero dei metri che passano sono sempre quelli agganciati alla terra ed è mutato solo il sistema del riferimento insomma è come se amici io volessi riferire il mio volto al risultato fatto da un pittore il quale pittore quando mi dipinge ci aggiunge come mi vede lui se invece del pittore io uso una macchina fotografica che fissa gli elementi che riceve senza nessuna interpretazione particolare la mia definizione è più precisa ma si riferisce sempre alla mia faccia perché sia il quadro sia la fotografia hanno sempre lo stesso riferimento allo stesso modo le tre unità fondamentali che descrivono la massa il tempo e lo spazio hanno una validità tra di loro che rimaste sempre valida e agganciata sempre a un valore esatto perché sono riferiti sempre al sistema dinamico della massa terrestre la quale la quale ha una lunghezza totale che la circonclude e ha un tempo esatto che è il tempo di tutta la sua rotazione libera di conseguenza quando noi stiamo usando il metro come definito oggi il secondo come definito oggi e il peso come definito oggi noi stiamo ricorrendo a un sistema che è perfetto perché è sempre lì che fotografa in modo perfetto la dimensione in lunghezza in massa e in tempo con cui la terra come massa libera si muove nel tempo della sua essenza io ringrazio di cuore Edoardo Bianchi e vorrei che voi tutti poteste seguire il mio lavoro non in un modo distruttivo ma costruttivo allo stesso modo fatto da Edoardo Bianchi che ha voluto precisare proprio le cose relative alla misura delle grandezze fisiche vedete io sono con la fisica modea nel rispetto totale delle definizioni su cui si basano tutte le unità di misura sono tutte interne al sistema metrico decimale e dunque se noi usiamo un modello ideale per misurare ogni fenomeno quando il fenomeno è intero deve valere lo stesso numero del modello unitario perché se non fosse così non sarebbe un modello reale generale ma erroneo quando noi abbiamo la velocità che espone tre dimensioni a uno come le tre dello spazio per ogni dimensione una del tempo la velocità che ne deriva come spazio tempo non può avere altro valore che tre a uno quando ciascuna delle tre dimensioni dello spazio è uguale alla dimensione uno del tempo se uno x uno y e uno z sono uguali nella loro unità a uno t noi possiamo risolvere la relazione come tre a uno e questo modo ci permette di capire che se usiamo questo modello per ottenere il modello generale della velocità assoluta ossia totale fino a che essa non assuma il numero di tre a uno non è ancora tutta e questo pensiero un genio come albert einstein non lo fece volle riconsiderare tutta la condizione e arrivò a dire che le dimensioni della realtà erano quattro tre dello spazio e una nel tempo e non arrivò alla realtà che non può essere altra che questa che l'unica vera relazione unitaria tra lo spazio e il tempo è tre a uno perché ogni linea appartiene a una terna e è un terzo della terna se noi vogliamo unificare un terzo possiamo lanciarlo solo a velocità tre a uno tanto che un terzo per tre a uno assuma il valore di tre terzi uguale uno a questa regola generale Einstein non ha voluto mettere in relazione la sua relatività generale anzi in quel dettaglio della relatività ristretta che riguardasse soltanto le relazioni tra la massa il tempo lo spazio e l'energia quando si capisca che il sistema dell'energia non si muove perché l'energia è pura potenzialità di movimento e si vuole avere la massa che sia uguagliata all'energia la massa può essere moltiplicata solo per la dimensione opposta a quella dell'ammassamento l'ammassamento generale è espresso da sei componenti che vanno al centro e sono i sei valori dei versi in ammassamento che se vogliono risolversi in energia devono controbilanciarsi tutti e sei con sei che siano centrifughi e che bilancino più uno e meno uno in modo da rendere immobile il tutto quando invece la massa non è considerata nella espansione trasversale ma solo nei due versi della lunghezza allora si capisce che sono contrapposte le due quantità dei due versi quello elettrico e quello magnetico e non quegli altri che appartengono al piano elettromagnetico il quale piano elettromagnetico non si espande e dunque non è contrastato nel suo ammassamento dunque vedete il controllo semplice semplice e facile facile dei risultati di Einstein porta a un macroscopico errore certo è vero che l'energia che è immobile è uguale a tutto l'ammassamento per tutta l'espansione perché ammassamento e espansione sono opposti tra di loro ma devono essere contrapposti tutti e sei i versi dell'ammassamento con tutti e sei i versi dell'espansione l'espansione